La casa dell'accoglienza di Viale Ortele è nata negli anni 50, quindi ha una lunga storia, ha una capienza di 470 posti che d'inverno diventano circa 600, anzi più di 600. È organizzata con l'obiettivo di dare a tutte le persone che vengono accolte delle opportunità di migliorare le loro condizioni iniziali. Sono qua diciamo due settimane perché hanno perso il lavoro, hanno perso la casa, hanno perso tutto. Questo palazzo di comune per me è bravissimo perché è un rifugio che non abiti la strada, non stai morendo diciamo. Dunque nei pronto soccorsi fortunatamente se non ci sono le guardie che ti cacciano puoi star lì la notte, hai capito? Puoi star lì tranquilla, seduta, se arrivi a sdraiarti su due sedie ce la fai, diciamoci la verità. Io praticamente che sono così da 11 anni, è abbastanza dura, quello che lo posso assicurare io ho passato parecchi inverni fuori. Qua non mi lamento nel senso che io ho trovato quello che cercavo io, quindi un tetto sulla testa più o meno e qualcosa dove lavarmi, dove mangiare qualcosa di caldo. Qua le persone vengono qua, trovano un posto caldo, una coperta, poter mangiare, potersi fare una doccia dopo la vita in strada che hanno passato è molto brutta. Adesso ricevo una bella notizia che mi hanno dato casa del comune, casa dell'Aler e a fine dicembre, primi di gennaio, me ne vado via, dopo tre anni e mezzo. Però comunque posso dire che veramente via Hortles e questo centro d'accoglienza ha dato tante possibilità a tanti omeles, persone senza dimora, senza un tetto. Grazie.